non sarebbe così divertente. Allora, nel frattempo mi presento, io sono Roberto Vela, faccio parte del NALUG e sarò il vostro moderatore per questa giornata. Ringraziamo ancora il professor Antonio Pescapè dell'Università di Napoli Federico II e presentiamo l'ingegnere Giuseppe Aceto, studente di dottorato al Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie dell'Informazione dell'Università Federico II di Napoli. Come sono stato appena presentato, sono uno studente di dottorato, precedente studente del professor Pescapè e suo collaboratore. Quello di cui vi andrò a parlare è un po' più in dettaglio del progetto che stiamo realizzando per rilevare la censura sui.